Ehi la bella gente, quest'oggi vi farò vedere un video diverso da solito, sì perché questa volta non vi parlerò di rettili o bestiuline varie, ma vi parlerò di questa qui dietro me, la mia collezione di manga. Perché come ho già detto più volte su questo canale, una delle mie passioni, oltre i rettili, le moto e lo sport, sono i manga e gli anime con cui sono cresciuto. Negli ultimi anni mi ero un po' allontanato da questo mondo, un po' perché non avevo il tempo, ho dato la passione per i rettili e tutto quello che c'era attorno, un po' dato da tutto questo ambaratana che ho dovuto creare e data da questione monetaria. Adesso che sono riuscito a mettere qualche soldino da parte, ho potuto fare la mia libreria con i vari manga. C'è da permettere una cosa, questi non sono tutti i manga che ho letto, alcuni li ho nella stanza su e in più come vi ho detto prima ero molto più povero di adesso e non avevo la possibilità di comprare i manga. Quindi moltissimi dei manga che ho letto, li ho letti tramite le scan. Poi adesso con il tempo, quelli che mi sono piaciuti di più sto cercando di recuperarli. Devo ancora fare in realtà il conto di quanto c'è in euro qui in questa libreria. E se per caso non vedete titoli come Devilman, che per esempio ho il cofanetto su, sì il cofanetto e non la omnibus, mi dispiace caverna. O altri titoli come Akira o altri del genere. Diciamo che non tutti li ho recuperati i classici e non tutti mi interessano. Questa è la mia libreria con le cose che piacciono a me. Fatta tutta questa premessa possiamo iniziare con il video della libreria. Questa è tutta la mia libreria per adesso e naturalmente dato questo, tutto questo mio interesse e amore per One Piece, non possiamo che iniziare dal lato superiore dove c'è One Piece. Allora io non ce l'ho tutto purtroppo, perché non ho ancora recuperato tutti i volumi, sono arrivato al 55 della versione normale. Poi ho preso i One Piece Doors che mi sono stati molto utili, visto che non ho mai fatto tanto caso alla prima pagina dei vari capitoli. Abbiamo qui la Silver, purtroppo non ho la Gold perché ai tempi quando uscì la Gold avevo la possibilità di recuperarla a 20€ ma io ero troppo povero e adesso mi sto mangiando le mani dato che è arrivata a quasi 500€ la Gold. E questi sono i tre volumi che ho preso i giapponesi del numero 99, 100 e 101 che si vede la qualità diversa della carta perché questi sono molto più morbidi, sono molto più leggibili, cioè in Giappone le fanno assolutamente meglio queste cose qua. E' una piccola figure molto cheap, presa da, non da Wish, da AliExpress, di Zoro, però che non è fatta per niente male e quindi diciamo che ho voluto metterla qui. Quelle fatte bene ce le ho lì, soprattutto quella di Kaido lì. Poi qui abbiamo tutto Kenichi, in realtà mi manca il numero 51 che ho già preso e deve arrivarmi. Kenichi è una serie che in Italia non è andata per niente, cioè quelle proprie persone che l'hanno presa si attengono e non si trova. Voi se volete reperirla o prendete tutta la serie che sono 61 volumi e costicchiano, altrimenti prendere dei volumi singoli molti non si trovano perché non sono state fatte le stampe e quelli che si trovano, come alcuni volumi che ho dovuto recuperare io perché io ho una buona parte di numeri, li ho pagati quasi 10 euro ogni volume. Quindi se dovete recuperarla perché vi interessate, perché GDLscan vi piace, comprate tutta la serie completa direttamente su ebay. Non riesco a capire perché non abbia avuto tanto successo in Italia Kenichi, per me è molto bello come manga, ha dei disegni molto belli, soprattutto quelli delle donne. Diciamo che su questo punto di vista è un po' ecchi, però a me come disegno amazzuena mi piace davvero molto. Ha uno stile molto riconoscibile, è bravissimo a disegnare le forme femminili secondo me, in modo molto molto esagerato. Però se non l'avete mai letto magari leggetevi le scan per capire se può piacervi, ma a me è piaciuto molto. Ha pochi momenti dove cala, è un po' lungo, però molto molto bello secondo me. Infatti è una delle serie che ho voluto recuperare assolutamente, tra le prime che ho recuperato del tutto, perché è una di quelle che ho modo di più. Poi qui abbiamo una figure del Goblin Slayer, che in realtà devo recuperare ancora nel manga. Ho visto solo la serie che mi è piaciuta molto e ho deciso di prendere anche nel manga. Poi, continuando, qui abbiamo l'angolino Jujutsu Kaisen. Qui c'è fino al 12, ma in realtà su ho il 13 e il 14 che devo leggere e ho ordinato il 15. Poi queste qui sono per esempio la cartolina che ti davano andando a vedere il film, un po' di figure. Queste cose sono molto molto belle, le ho pagate una cazzata su Aliexpress. Già solo queste qui, se andate a prenderle su rivenditori ufficiali, costano 10-15€ e sono fatte davvero bene anche queste qui. Più il ditino di Sokuna, che è anche questo qui, pagato una cavolata su Aliexpress ed è fatto molto bene. E la parte più bella è questo Gojo qui. Magari spostiamo questo qui indietro. Guardate quanto è bello questo Gojo. Questo da solo vale tutto Jujutsu Kaisen. Poi abbiamo due steelbox che sono uscite da Panini. E tutto Spy Family fino adesso. Spy Family che sto seguendo le scan e poi ho deciso di prenderlo cartaceo perché mi piace molto. Devo dire che andando avanti sembra un po' lento perché sono molto slice of life, quindi molto da relax, molto da leggere normalmente. Quindi la storia non progredisce molto, poi andando avanti però ci sono alcuni bei combattimenti. Mi sta piacendo molto anche come stile di disegno. Poi andando sotto abbiamo Kaiju Number 8. Kaiju Number 8 che ho aspettato davvero come se fosse la vita. Ho iniziato a leggere appena uscito in Giappone. tramite le scan e per un anno ho aspettato che annunciassero l'arrivo in Italia. Poi è stata fatta una campagna della Madonna, varie versioni, io ce l'ho praticamente tutte quante. E a me sta piacendo tantissimo come va avanti, è molto veloce, i combattimenti che non si fermano mai. 60 capitoli, mi sembra che adesso siamo intorno ai 60 capitoli poco meno. Vi li leggete penso in una giornata. Molto molto bello. A me sta piacendo molto e spero che prosegua bene questa storia. Poi qui abbiamo Fairy Tail che in realtà non è tutto. Siamo al 42 e sto prendendo adesso questi box qui. Fairy Tail che ho letto tutto quanto tramite il scan. Poi lo sto recuperando pian piano perché a me era un'opera che ho iniziato a leggere appena uscita in Giappone. E mi stava piacendo. Non è la storia della vita che vi cambierà tutto quanto, però ha i suoi momenti Fairy Tail. Molti lo criticano come se fosse una merda, però secondo me vale la pena di leggerlo. Anche qui personaggi femminili prosperosi, combattimenti abbastanza fighi, disegno ho fatto secondo me abbastanza bene. E di Iro Mashima qui dietro ci sono anche i volumi di Monster Hunter. Monster Hunter che è una serie di videogiochi che io amo, quindi li avevo presi ai tempi e mi era piaciuta anche quella lì come disegno. Anche se tutti i personaggi, anche adesso di Edents Zero, fatti sempre da Mashima, sono praticamente tutti uguali i personaggi. Sia nello stesso manga che negli altri manga che fa, tutti i personaggi sembrano uno la copia dell'altro. Solo in molti versi diversi. Sotto abbiamo Torico. Torico che anche questo è iniziato appena uscito. Un manga che mi stava prendendo molto, sempre perché disegni molto belli, combattimenti molto fighi. Storia un po' diversa dal studio perché qui l'argomento principale è il cibo. E vi giuro che leggendo questo manga vi verrà fame davvero. Ogni manga, ogni volume che finite, vorrete mangiare qualcosa perché vi vengono descritti gli alimenti in un certo modo che ti viene proprio voglia di mangiarli. Anche qui mi mancano un po' di volumi. Sono, non mi sono sbaglio, una quarantina in totale. Sono il 29, quindi in teoria anche questo l'ho quasi completato. Queste sono tutte cose che ho letto in passato, che mi sono piaciute e ho deciso di recuperarle in cartaceo. E qui di fianco abbiamo il nuovo, perché questo qui è relativamente nuovo rispetto alle altre cose che vi ho fatto vedere. Bene o male. Shangri-La Frontier. O Shangri-La, Shangri-La Frontier, non lo so come cazzo si nomina. Sto prendendo tutte e due le versioni perché ho preso il primo volume e mi era piaciuto molto. E allora è un Sword Art Online che non fa cazzate, diciamo. Che non ci mette tanto dentro la questione amorosa, eccetera. Che è la cosa che poi ha fatto cagare in Sword Art Online. Questo manga, se non l'avete letto, provate a dargli un occhio perché se vi piacciono le storie in cui i personaggi entrano in un altro mondo parallelo, questo secondo me è fatto davvero bene. Ha dei disegni molto fighi. La storia non è niente di nuovo, però viene messa giù in un modo diverso. Cioè la grazia della storia è dove il personaggio entra in un mondo, oppì lui perché è il protagonista che si è giocato per anni e anni. Però l'approccio poi alla storia del videogioco è abbastanza diversa. Quindi vediamo dove vuole andare a parare. Poi qui sotto abbiamo GTO. GTO che è una delle mie serie preferite. Io mi spacco dalle risate con Onizuka. Qui c'è Bad Company. Qua abbiamo tutto Shonanji naigumi. E adesso sto prendendo la Black Edition di GTO Deluxe. Di questo non c'è neanche bisogno che ne parlo. Penso che chiunque conosca GTO, se avete visto l'anime, lasciate perdere l'anime. Perché anche se è abbastanza bello il finale cambia, è molto più ristretto. Qui è descritto tutto in modo diverso. Soprattutto a me mi sono piaciute la Partition, Angini naigumi e di Bit Company che parlano un po' del passato. Volevo prendere anche questa versione Deluxe, però quella argentata non mi piaceva tanto. Per fortuna hanno fatto questa Black e quindi adesso la sto recuperando piano piano. E poi qui naturalmente abbiamo Dragon Ball. Dragon Ball che naturalmente non può mancare in un'alberia di un appassionato di manga. Ho deciso di prendere questa versione qua rispetto a tutte le altre che hanno fatto. Perché questa è quella un po' fatta meglio. Vedendo tutte le recensioni e tutta quella un po' più completa che non si perde pezzi. Avevo fatto un pensiero anche a prendere la versione Colored, ma so che è impossibile recuperarla tutta e costa troppo. Però sono contento di aver aspettato e per fortuna sta uscendo questa qui che bene o male una volta al mese 15€ si porta via diciamo. Poi andiamo nella colonna quella un po' più piccola. Adesso dovrò prenderne poi un'altra perché le dovrò spostare tutte queste scatole delle figure che ho. O dei videogiochi. Dato che deve arrivarmi ancora un po' di roba che devo inserire qua. E lo spazio inizia a finire. Allora qui abbiamo Chainsaw Man. Opera che a me sta piacendo. Paragonata molto a Jujutsu Kaisen. Che però è molto più confusionaria. A volte i disegni sono molto molto difficili da leggere. Ci sono alcune situazioni che non si capiscono bene. È particolare. È molto più cruda e grezza. Rispetto a Jujutsu Kaisen che bene o male è un po' più la portata di tutti. Ah mi sono dimenticato che qui sopra, sopra a GTO. Ho questo volume di Berserk francese che ho preso. Dato che a parte che è un formato bellissimo che spero portino anche in Italia. Davvero io non sto prendendo Berserk soltanto perché sto aspettando una versione che renda giustizia a quest'opera. Visto che la serie nera non si può vedere. Già se facessero dei volumi del genere in Italia glielo prenderei subito. Ho preso questa versione perché è una versione speciale con dietro la plate in metallo di Gatsu. Che questa è davvero davvero bellissima. Sarebbe da incorniciarla. E questa è andata a ruba più volte quando è uscita su Amazon. Torniamo di qua. Allora, poi qui abbiamo Darling in the Franks. Allora, so che praticamente tutte le ragazze di questo mondo sono andate pazze per sta serie. Che mi sembrava molto una cagata. Lo sto iniziando a seguire perché da quello che ho sentito nelle recensioni il manga cambia rispetto all'anime. E l'anime per fortuna non l'ho mai iniziato. Disegni a volte molto ecci. Il disegnatore si vede che ha proprio quell'impronta lì. Non è male come storia. Voglio capire dove va a parare. Adesso siamo al quinto volume. In totale dovrebbero essere nove se non sbaglio. Poi, Comic and Communicate. Allora, questa serie è stata un po' una rivelazione per me. Diciamo che io ho iniziato a leggerla per curiosità. E ho continuato a leggerla perché praticamente ti dà un senso di serenità allucinante. Uno slice of life davvero bello. Cioè, a me sta piacendo molto il rapporto che c'è tra i protagonisti. Il fatto che ci sono un bordello di personaggi tutti con la loro personalità. Tutte le situazioni si vengono a creare dato che la protagonista non riesce a comunicare con le persone, eccetera, eccetera. Se volete qualcosa per rilassarvi mentre leggete, questo secondo me fa il caso vostro. Vi strapperà anche qualche bella risata. E di fianco abbiamo Solo Living. Allora, io ho ordinato anche il 7 e l'8. Adesso esce il 9. Solo Living che io ho letto tutto quanto sulle scan. Ed è un'opera stupenda a mio parere. È davvero davvero bello. Mi è piaciuto molto. Tutto un po' sono rimasto deluso dal finale, ma in realtà diciamo che è stato giusto. La sto recuperando adesso cartacea perché mi è piaciuta talmente tanto che ho detto no, io devo averla assolutamente. E ha dei disegni davvero molto molto fighi. Vediamo di non fare spoiler. Personaggio che è davvero un figo della Madonna in certe situazioni. Naturalmente anche qui, personaggio che nasce sfigato, poi diventa figo della Madonna, super potente. Però c'è tutta una motivazione dietro e un ragionamento dietro tutto quello che fa, che è molto realistico diciamo. Cioè un ragazzo che magari è cresciuto giocando ai videogiochi eccetera, trovandosi nella sua situazione, diciamo che avrebbe fatto proprio quei ragionamenti. E mi è piaciuto un sacco questa parte qui. Quindi questo ve lo consiglio assolutamente. Poi, qui abbiamo Dr. Stone. Dr. Stone che abbiamo fino al 20, è uscito il 21 forse, deve uscire. Il fatto sta che Boichi mi piace moltissimo, mi disegna. Io ho iniziato a seguire Dr. Stone dall'anime, ho visto la prima e la seconda stagione. Mi è piaciuto un botto per come è raccontato e tutto. Poi ho visto che il manga aveva dei disegni della Madonna e ho deciso di prenderlo. E di Boichi voglio recuperare anche Sunker Rock. Perché proprio lo stile di disegno di Boichi è impressionante. Qualcosa di allucinante. Sto aspettando di prendere tutti i volumi per poi leggere praticamente tutto da capo, naturalmente, perché ho visto solo l'anime io. E questo è uno di quelli che ho deciso di non leggere tramite le scan, ma direttamente il cartaceo che sto prendendo man mano. Andando su abbiamo Mario Academia. Stesso discorso per Mario Academia. Ho visto solo l'anime, ho visto le prime quattro stagioni e i vari film. Mi è piaciuto. Ho detto ok. Sono andato a vedere il manga, ho visto che ha dei disegni stupendi, che mi piacciono molto. Ho deciso di recuperarlo, sono solo al 12. Diciamo che non è una mia priorità adesso, visto che si trova facilmente, eccetera. Poi qui ho un po' di figure di Baku, che è il personaggio mio preferito praticamente. Questo è molto molto classico come storia, come idea. Cioè davvero si è visto ovunque la questione eroi, scuola di eroi. Non dà niente di nuovo, però lo fai in un modo giusto. In modo che tu ti riesci ad appassionare i vari personaggi, in modo che tu ti trovi il personaggio con cui sei più a tuo agio. Non si dà più... Cioè naturalmente il protagonista è Midoriya e bene o male Bakugo. Però tu riesci ad empatizzare con tutti i vari personaggi. E in alcuni episodi, in molti episodi, in molte situazioni non ci sono neanche i protagonisti. Quindi diciamo si dà un po' spazio a tutti quanti. Stessa cosa che mi è piaciuta per Fairy Tail. Fairy Tail qui alla fine si parla della gilda, non c'è solo il protagonista e infatti si parla proprio di questa famiglia che si crea nella gilda. Poi non so voi, ma a me questa cosa qui, questo, è leggermente più basso degli altri. Come anche questo qui mi fa venire un nervoso, se voi non avete idea. Salendo abbiamo un capolavoro. Sto parlando di Slendunk. Allora, Slendunk qui c'è fino al 16 perché io sto finendo di leggere. Mi mancano gli ultimi quattro volumi da leggere. Che c'è lo su. E io lo sto adorando. Io non avrei mai detto nella mia vita che uno Spokon, un manga sportivo, mi avrebbe preso così tanto. È vero che a me piace il basket, davvero però. Di disegni stupendi. Personaggi con cui empatizzi tantissimo. Protagonistiche, bene o male, sono questi qui che vedete. Il vero protagonista sarebbe Anamichi. Però, bene o male, è la squadra del protagonista. La situazioni che si creano. Il loro obiettivo. Bellissimo. Davvero, ve lo consiglio tantissimo. Anche se non siete appassionati di sport, questo è un manga che vi piacerà un sacco e vi farà fare anche un sacco di risate. E poi arriviamo, diciamo, alla fine perché poi ci sono alcuni volumi su, ma quelli non credo che ve li farò vedere perché tanto non ha senso, sono poche robe. Cioè, il box di Devilman più altri primi volumi di altre robe. Allora, partiamo da qui. Abbiamo i tre numeri di Cowboy Bebop. Che fino adesso, il terzo mi sembra che era abbastanza indrovabile. Adesso si trovano tutti quanti. Cowboy Bebop, chi è un po' più vecchiotto lo conoscerà sicuramente. Ho preso questo box di Prophecy, di Tetsuya Tsutsui. Allora, questo qui, diciamo, l'ho preso dopo aver visto alcune recensioni di questo autore. Le idee che ci sono dietro i suoi volumi, perché ci sono diversi box con varie storie, e questo è uno di quelli che ho deciso di prendere, poi ne prenderò anche altri. Sembrano molto figli e molto nelle mie corde, quindi adesso ancora devo leggerlo. Però vediamo un po', se poi mi piacerà, prenderò sicuramente altri box. Poi qui abbiamo The Wolf Won't Sleep. Disegni abbastanza fighi. Storia carina, già vista e rivista però non male. Mi sta piacendo, mi sta piacendo molto, devo ancora finire di leggere, ho letto solo il primo volume per adesso. Provate a leggervi delle scan per vedere se può piacervi. Qui abbiamo My Death's Up Darling. Manga che mi sta piacendo tantissimo. Stesso discorso per Comic and Communicate. C'è la questione di slice of life molto chill. Cioè voi ve lo leggete e siete molto tranquilli, cioè vi rilassate proprio secondo me. Ultimamente sto prediligendo queste letture qua che sono molto molto fighe. Abbastanza ecchi, perché c'è la protagonista che diciamo si innamora poi di sto tizio qua, che sarebbe co-protagonista. Si creano tante situazioni, ma sicuramente voi avrete già visto questo manga, perché praticamente ha spopolato ovunque. Devo dire che sono curioso di capire come andrà avanti la storia e come finirà. Per adesso mi sta piacendo molto, i disegni sono molto fighi. Mi è piaciuto molto l'espressività dei personaggi nei disegni e il fatto che è molto pulito tutto il disegno. Qui abbiamo Medaga Box, altro manga che io ho amato, diciamo, qualche anno fa quando l'ho letto tutto quanto tramite le scan. Voglio recuperarlo tutto quanto cartaceo, ma diciamo che ne ho tanti da recuperare, quindi adesso devo capire un attimo come fare. E Poche e Kuro. Poche e Kuro è dello stesso autore di Kaijuu No. 8. Storia però molto diversa, pochi volumi, se non sbaglio sono quattro in totale. Però dopo i primi due volumi è molto bella come storia. A me sta piacendo, sempre molto leggero, molto cile, non è una lettura pesante. Secondo me si legge molto tranquillamente, si fa fare un po' di risate. Essendo quattro volumi c'è anche da dire che si possono spendere questi soldi per farsi qualche risata in più. E qui dietro, cosa che sarà un po' difficile, c'è un po' di mistone. Ci sono vari numeri 1, che siano variant o versioni normali o manga che mi sono stati regalati. E da quest'altro lato, che è un po' più importante invece, c'è Resident Evil Marawa Desire, Resident Evil o come volete. Ho, se non sbaglio, quattro numeri su cinque e mi manca il quinto che è introvabile. Davvero sto raschiando il fondo per trovarlo, ma o non si trova o si trova a prezzi improponibili. E sempre di Roma Scima, Monster Hunter Orange, che è un box con quattro storie legato al mondo di Monster Hunter. Se conoscete il brand sapete di cosa parlo. E poi c'era questo Monster Hunter Episode, che non mi ricordo se erano solo tre volumi, però anche qui i disegni erano molto basilari. Però c'erano alcune cose molto fighe e per un appassionato di Monster Hunter questi eravano volumi molto belli. Ci dovrebbe essere anche un'altra uscita o due di Monster Hunter, in versione manga. Se non sbaglio una era il Flash, che avevo intenzione di recuperare. Ma queste qua sono quelle cose che seguono i pochi appassionati e quindi poi se si vogliono recuperare si fa molta fatica una volta che sono finite le stampe in giro. E di ristampe non ne fanno perché non se ne vendono abbastanza. Detto questo, questa è la mia libreria per adesso. Adesso mi è venuta la curiosità e volevo fare il conto di quanta roba ho qui dentro. Senza contare il figuro, perché quello sarebbe un conto a parte e vorrei fare un video a parte per il figuro. Perché ne ho alcune che sono molto belle, come anche quella lì di Broly. Altri volumi li ho su, quindi più avanti ci sarà un aggiornamento della libreria, penso tra qualche mese. Probabilmente il totale di quanto c'è nella libreria ve lo metterò nel titolo del video. Se questo video vi è piaciuto, anche se è diverso da quelli che porto di solito sulle bestioline che sono in giro qua, ad esempio Ragnar. Detto questo, vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo ad un prossimo video che non so ancora se sarà sui rettili, sulle figure, su qualcos'altro. Nel caso fatemi sapere qui sotto che cosa vorreste vedere o qualche argomento di cui vorreste che io vi parlassi. Grazie a tutti la visione e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao!